Ricostruzione Smart City, un binomio cercato, invocato, a volte di cui si è abusato, per definire i processi di rinascita di uno dei centri storici più antichi e tutelati d'Italia, per parlare della compatibilità degli interventi con le nuove tecnologie. Ed è stato questo il centro del dibattito della seconda giornata di Officina L'Aquila, la tre giorni dedicata ai processi di restauro e riqualificazioni post-sisma, con esperti e tecnici di fama nazionale ed internazionale. Quale deve essere la vocazione dell'Aquila? Senza questa risposta, per Leopoldo Ferre è impossibile pensare al futuro. Bisogna approfondire il ragionamento sul futuro dell'Aquila, sulla vera vocazione di questa città, perché la discussione che c'è stata in passato sul dov'era o com'era è stata piuttosto superficiale. L'Aquila non può essere com'era. L'Aquila, con il terremoto, ha cambiato strade inevitabilmente, come è sempre successo nelle varie città del mondo, quando succedono eventi come questi. Bisogna avere maggior coraggio nell'affermare una vocazione futura e maggior coraggio anche negli interventi fuori dal centro storico. L'Aquila e la sua ricostruzione comunque stanno già diventando un modello da esportare, come spiega Norbert Lashner, presidente di Climambita Foundation. Che sta maturando delle esperienze che hanno un valore non solo nazionale ma anche internazionale. L'Italia è ricca di un patrimonio storico e anche altri paesi hanno questa opportunità di scegliere un rinnovamento, un accoppiamento alle nuove sfide che sono legate al tema clima, al tema energia. E come poter valorizzare questa esperienza credo che va divulgato, va promosso con la formazione, va promosso con l'educazione ma va promosso anche tramite la sensibilizzazione. Ma comunque questi laboratori dell'Aquila sono un punto di riferimento oggi a livello nazionale e diventano anche internazionale.